Strumenti per l'imprenditorialità e politiche attive del lavoro, esperti a confronto ieri pomeriggio all'hotel Poseidon di Torre del Greco, un'iniziativa proposta ed organizzata da Stecca. Abbiamo proposto questa iniziativa per animare il territorio, per mettere intorno allo stesso tavolo i rappresentanti dei vari pezzi della filiera che devono stimolare buona impresa, consolidamento di impresa e occupazione. È un periodo di grandi investimenti, di grandi sollecitazioni, alcuni processi stanno subendo anche dei cambiamenti rapidi, pensiamo in particolare alla digitalizzazione, però non possiamo improvvisarci. Per cui l'idea è quella di far sapere agli addetti ai lavori, ai cittadini, che ci sono degli strumenti che possono agevolare, favorire il cambiamento in maniera professionale e competente. Quale consiglio si sente di dare ai nuovi imprenditori? Di non improvvisare, di studiare i mercati, di guardare quelle che sono le evoluzioni e i trend di mercato, di approcciarsi anche ai processi di business con competenza manageriale, di non innamorarsi delle idee ma di studiare con attenzione quelli che sono i modelli di business prima che i business plan e quindi di arrivare preparati e quindi non caricarsi di un rischio imprenditoriale eccessivo, soprattutto in un momento di cambiamenti repentini come questo. Un'occasione per approfondire le principali iniziative messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali, per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo. Stiamo mettendo in campo gli strumenti necessari per dare sul territorio quelle opportunità di cambiamento della stessa area territoriale, per quelle che sono le attività che vanno dislocate in certi spazi che prima forse non erano individuati, è per far sì che chi intendesse, anziché andare via da questi luoghi, impiantare una nuova attività, delle start-up, delle nuove attività produttive in generale, possa farlo avendo dall'aiuto dell'amministrazione comunale. Non è un'operazione semplice, nel tanto meno a breve termine, però se si creano i presupposti in questa direzione possiamo arrivare a questo cambiamento. Oggi si parla di strumenti, di strumenti che aiutano l'inserimento nel lavoro e danno opportunità. La banca ha una serie di strumenti che servono per sostenere le imprese, ma soprattutto i progetti delle imprese che in un momento epocale di cambiamento come questo sono volti verso un po' l'innovazione e la digitalizzazione, quindi una serie di progetti che la banca, una banca di territorio può accompagnare, individuando quelle che sono le competenze, le capacità, le vere professionalità che come sappiamo, insomma, sappiamo mettere insieme nei momenti in cui abbiamo bisogno di crescere. Oggi la sfida si fa sulle competenze, si fa sulla capacità di sapersi adattare a questi nuovi, come dire, driver, come quello della sostenibilità, come quello del, come dire, di dare un proprio contributo anche al sociale, quindi anche alla sostenibilità, quella che tutti definiscono la sostenibilità, quindi di partecipare con la propria azienda a una crescita non solo economica ma anche sociale del nostro territorio. Adesso i driver di sviluppo sono sostenibilità, digitalizzazione, ed è questo quello che mi sento di dire ai giovani imprenditori, di puntare verso questi due driver in un tempo in cui è tempo di merito, è tempo di competenze, è tempo di coraggio, è tempo di buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma è come oggi, non ci sono mai stati tutti questi soldi, non mi riferisco soltanto al PNRR, ma mi riferisco anche al mondo della finanza, a fondi che credono in sogni, che vogliono realizzare e concretizzare quei sogni. Ecco, quindi l'auspicio, o meglio, il consiglio che due ai giovani imprenditori, ora più di sempre, è di cavalcare questa rivoluzione industriale e credere effettivamente nei loro idee, nei loro sogni, nelle loro passioni e portare avanti. La resilienza è un concetto che a me piace, perché è la capacità di adattarsi al cambiamento, però questo è il momento storico in cui un giovane imprenditore può non essere resiliente, ma può determinare il cambiamento, in questo ci credo veramente. Il giovane imprenditore si trova ad iniziare presentando un piano strategico, ottenuta la finanza necessaria per poter partire con la sua azienda, si trova in una seconda fase successivamente ed è il momento nel quale il commercialista lo supporta, sia sotto il punto di vista organizzativo, amministrativo o fiscale. Quindi diciamo che ci sono due momenti, il primo è strategico, il secondo è operativo. Il commercialista subentra particolarmente nella seconda fase, fase operativa dando la consulenza a 360 gradi, amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro. Questo in linea di massima viene supportato, aiutato sicuramente con gli strumenti professionali del commercialista. I due strumenti che noi abbiamo al nostro attivo, nel nostro portafoglio e che spendiamo sul territorio sono Yes i Startup e Self Employment, che rappresentano, guardati nel loro insieme, un modello di approccio ai giovani, perché abbiamo con Yes i Startup un modello innovativo di formazione e tirocinio. Dall'altra parte abbiamo con Self Employment una linea di finanziamento agevolato a tasso zero e zero garanzie. Quindi noi raccogliamo la domanda di impiego, di ingresso nel mercato del lavoro e la portiamo avanti accompagnando i giovani, le donne disoccupate e i disoccupati di lunga durata che abbiano un'idea progettuale e la mettiamo in campo affiancandoli fino a quando presentano una domanda e ottengono il finanziamento. Ci sono molti strumenti per avviare nuove imprese. Abbiamo misure come il resto al sud, come nuove imprese a tasso zero, quindi molte agevolazioni da parte dello Stato. Quello che è importante però è che ci siano delle misure strutturali e di lungo termine. Non servono interventi a pioggia, non servono neanche misure da raggiungere col click day che spesso vanno esaurite in pochissimi secondi dall'apertura dei bandi. Quindi è chiaro che in questo momento ci troviamo in un momento molto particolare per il Paese perché ci aspettiamo tanto dal PNRR perché c'è una quantitativa di risorse veramente incredibile ed è importante in questo momento realizzare le riforme fondamentali per il Paese che aiuteranno gli imprenditori, aiuteranno le nuove imprese e ovviamente l'impresa attuale è anche a svilupparsi e soprattutto è importante attuare quelle missioni fondamentali di transizione digitale, transizione ecologica, di sostenibilità che sono richieste dal mercato e da questo punto di vista noi commercialisti siamo pronti a accompagnare le imprese in questa evoluzione, in questo passaggio fondamentale per il Paese.